Verdun che è in pieno centro di Smirionis, a pochi passi di Val Podgore, a Vialeghi Mazzuri. Bene, qua alcune case, perlomeno le facciate, stanno vedendo una ristrutturazione da parte del Comune di Cagliari, ma queste sono case dell'area e molte persone si rifiutano di pagare i canoni d'affitto. È una realtà, andiamo a sentire cosa dicono le persone che qui abitano. Stanno ristrutturando queste case, ma molta gente per esempio non le paga, perché dice che queste case sono distrutte dentro e hanno anche ragione. Vale la pena. Tutto è dentro e anche fuori, perché c'è umido, c'è di tutto, topi, blatte, c'è di tutto qui. Quindi se c'è qualcuno che non paga? A parte che c'è gente anche molto povera che non può pagare, tipo io. E poi però comunque, a parte le facciate che stanno ristrutturando, ma poi quello che c'è dentro, la muffa. C'è gente che riesce magari a tenersela in grazia di Dio, perché magari c'è le dieci ore in più e vivono in grazia di Dio, perché ci tengono la polizia, non è che sia via Pudugora e sia... Dozzona, siamo sempre Smerioni, Smeralzona e un'altra, queste le chiamavano le case di Puffi. Perché c'è tanta gente che decidi non pagare più l'affitto? Perché il comune non collabora in niente, in niente. Chiami per un, come si chiama, per un danno in casa e non si vedono. Cioè perché adesso i bullettini della casa arrivano anche, qualsiasi cosa succede, te lo devi pagare tu. Però l'hanno messo... Case area o case comune? Comune, comune.